Siamo oggi con il dottor Ermanno Raffo, delegato provinciale ONAV, ossia Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Il dottor Raffo ci racconterà che cosa fa l'ONAV e ci parlerà dei nuovi corsi per assaggiatori in partenza da marzo. La sigla ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, raggruppa in tutta Italia più di 8.000 appassionati che dopo aver seguito un corso di formazione si cimentano in questa difficilissima arte, quella di assaggiare e definire in modo oggettivo e compiuto i vini che vengono degustati. Anche Vercelli è stata aperta da tanti anni, più di 50 anni, una delegazione, una sezione che in questo periodo è preseduta da sottoscritto, raggruppa più di 110 appassionati che con cadenza quasi mensile si riuniscono per degustare, per capire, per incontrare diverse forme enologiche italiane, ma non solo italiane. Per ampliare un po' la gamma degli appassionati e del numero, ogni anno la nostra sezione, di cui fa parte anche Gianluca Marino, un consigliere della delegazione, organizza un corso di formazione professionale. Anche quest'anno stiamo organizzando il corso, le iscrizioni sono aperte e speriamo di raggiungere il numero minimo per poter partire in un ciclo di 18 lezioni serali con cadenza bisettimanale per far sì che chi si iscriverà possa conseguire un diploma, che è una vera e propria patente di assaggiatore, per approfondire poi successivamente questa piacevole arte, che è l'arte del degustare il vino, di capirne i significati e le sommature più recondite e più piacevoli. Ermanno, se ci dici qualcosa, se ci dai qualche notizia sui vini, sulla cultura del vino sul nostro territorio? La provincia di Vercelli pure risicola naturalmente a livello nazionale e mondiale, ha delle eccellenze nella sua parte collinare, quindi parliamo delle zone di Gattinara e delle zone confinanti con la vicina provincia di Biella, quindi le colline che portano poi verso Lessona su cui viene coltivata la vite e in particolare il Nebbiolo per dare origine a delle grandissime denominazioni di origine controllate, grandi DOC, quindi partiamo da Gattinara, che è addirittura un livello ancora superiore, una denomazione di origine controllata e garantita e poi abbiamo vicina il Bramaterra, che è un'altra DOC, una gemma dell'enologia piemontese, con una DOC un po' picchettino più ampia, che copre tutte le colline vercellesi e biellesi, che è la DOC coste della Sesia, che comunque ha sempre come base questo importante vitigno piemontese, il Nebbiolo, da cui si ricavano in altre zone del Piemonte vini di grande fama e di importanza, quali il Barolo e il Barbaresco, ad esempio. Quindi anche la provincia di Vercelli ha queste particolarità enologiche caratterizzate per di più da un'unicità territoriale, sono terreni di origine vulcanica, magmatica, con una reazione acida che li differenzia da tutto il resto del Piemonte. Quindi Nebbioli dell'Alto Piemonte con caratteristiche uniche al mondo.